Per esempio, non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell'immigrazione è impositivo. Cioè, quello che gli immigrati mettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l'accoglienza. Queste sarebbero statistiche che ogni tanto andrebbero raccontate. Va bene, però qui è una festa, scusa. È una festa, scusa. No, perché scusa. Davvero troppo... No, io ho detto, se non mi fanno... Ci vorrebbe troppo tempo per rafforzare determinate tematiche. Il problema è che quando mi fanno una domanda non riescono a rispondere. No, no.